salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la novantunesima puntata della serie MIG oggi siamo qui in compagnia di dopo tanto tempo di Edo ciao a tutti poi abbiamo Fabio ciao a tutti dovrebbe essere mister Soccata morto e poi abbiamo Cobra ciao a tutti Matti ciao Nico ciao a tutti Enrico ciao e basta ciao 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 e anche cabri bene eh non è mister Soccata dunque stiamo bene dunque et dunque bene e stiamo dunque l'erba e e bene dunque bene l'erba vedo che e che qui dunque sta bene dunque perciò di solito dobbiamo fare il contrario vuol dire si viene a sarchiare con le ruote fine si ma se sei in mezzo al campo e cresce la cultura dopo pesto io o qualcos'altro ah no vabbè pesto a te dopo il campo tuo no pesto a te sta diverso comunque via un po' di diservatura un po' di cerchettura e vediamo di rimuovere le erbacce da questo campo di carote di farle crescere e raccoglierle perché qua abbiamo un biuro che aspetta con ansia vediamo lo status generale più che altro delle erbacce mi sembrava averle rimosse un po' dappertutto abbiamo anche tutti invece no abbiamo tutti i campi di Aron e anche da e non ci sono a posto eh si no i nostri di fatti non ci sono a posto l'avevamo tolto l'altra volta mancano tutti i campi di Aron e il campo e il campo 56 e tutti quegli Aron 56 55 52 53 50 51 no 51 51 è a posto ma va bene appena finisco qua parto subito adesso qua altri due giletti a parte che aspetta eh abbiamo anche qualche nuova attrezzatura da mettere in utilizzo nel frattempo la utilizziamo tutta questa? si si dai inizio dopo ti appasso finché finiscono il campo e dopo facciamo crescere le carote una macchinetta qua molto 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 tanto se dovete controllare eh tutto il mese c'è portare un po' di letame biogas un po' di eh beh vedo lascio alcuni lavori deve fare Aron un po' di latte un po' di roba varia che c'è da trasferire vabbè qua è diventato tutto un grande campo e Aron o c'è che tiro basso il capannum Aron ecco bravo fa danni dopo andiamo a vedere anche andiamo a vedere il mister soccata se è finito di abbattere gli alberi perché eventualmente ce ne saranno ancora da abbattere oh via diciamo presto qua abbiamo più di 50 metri eh c'è un problema perché? eh sono crescito le culture e magari sei in mezzo al campo eh vuol dire non puoi né scendere né scendere dunque il consiglio è stai fermo lì e lascia lì il trattore sto più o meno 8 metri di strisciata come auto? ma si ma avanti indietro un attimo come avanti indietro un attimo? eh si vedremo vedremo quando in aggiunta della sabbia qualcos'altro farà avanti indietro cosa ne pensi eh non puoi salire neanche quello addormento ma ma no guarda non mi esprimo una roba immondo non mi esprimo vergognoso cioè dopo dopo che è stato avvisato no che facendo facendo così rischiava di rovinare tutto e ha comunque continuato crescere adesso proprio e rovinarsi anche la sua luminosità cioè è recidivo la questione questo è il problema comunque dai andiamo avanti e riserviamo qui tutto quanto dopo vediamo di far crescere queste benedette culture qua bisogna far crescere tutto il mais dobbiamo preparare abbiamo finito l'insilato a casa abbiamo trincelle water biogas dobbiamo darsi una mossa ecco qui il primo stadio di crescita delle carote questa è praticamente la loro fogliolina e vedi adesso proseguiamo con le diserbature adesso ho fermato un attimo guarda guarda qua dove vuol dire che ha fatto dei segni guarda qua c'è 10 metri quadri di carote perse e vabbè poco a fare e non dire niente a biuro no no te che dico te che è fatto sparire apposta e so carote vabbè proseguiamo diserbature tutto il mega unico campo che ha fatto Arone ormai abbiamo quasi finito mi ero fermato a fare un po' di rifornimento 9000 litri di erbicida e via che proseguiamo dunque è tempo di far crescere qua un po' di carote abbiamo diserbato tutto e quindi occhio ai bancaletti di uova ci prepari uno con la palla a spostarli e adesso iniziamo a far crescere qua un po' di carote ecco che arriva a notte allora andiamo carote carote si mostrina carote quelle arancioni le regala mia nipote si trasforma in banconote questa è diciamo la quarantena che causa codesti problemi o anche Mari il rato dosaggio dei psicofarmaci può causare questi problemi allora qua le carote non si muovono ma mia salia un po' di più il tempo cioè giusto eh ma perché ha bisogno del suo tempo per crescere ma anche il rato acqua guarda che se vedrà quando è cresce mia si si guarda adesso adesso piove qua e dopo dopo dovrà che ok abbiamo anche un bel po' di centinaia di migliaia di euro di entrate dall'impianto del biogas che si aggiungono ai 2 milioni e 300 mila che abbiamo ecco qui un altro punto di crescita delle carote Marco io direi di acquistare minimo un altro mezzo eh prossimamente intanto vediamo di raccogliere quale carota che è importante Fabio e ecco adesso piove piove così diamo un po' di acqua e carota e vengono su e carregiamento stadio di crista è il secondo finalmente dopo molto tempo sono spuntate anche qua tutte le carote dalla terra praticamente è cresciuta sotto perciò dovremmo essere pronti per la raccolta quanto vedo si rimuovi steli adesso sta crescendo anche un po' tutto il resto dei campi diciamo il tempo a 15 in modo che si stabilizzi tutto anche il mais qua sui campi erone è pronto quindi vi darà prossimo puntato iniziare a fare un po' di insillato bene saliamo sul macchinario mettiamo in moto tutto vedo qua già tutto dispiegato già tutto pronto cobra preparato allora vediamo se raccoglie oh vara carote velocità 12 12 12 12 vedete la texture delle carote più chiaro oh bene finalmente finalmente abbiamo un bel po' un bel po' di carote si riempie anche il giusto vai non è non è troppo esagerato ma neanche troppo poco è un po' un po' un problema questa zona qua eh c'è qualche alberello qua che ormai facciamo venire qua mister soccata la lato su qua abbiamo una zona anche si è ripresa subito bene intanto qui proseguiamo dobbiamo raccogliere tutto il campo e nel frattempo c'erano ovviamente gli animali da chudire perché dopo tutto questo aumentare del tempo in continuo sono sicuramente hanno bisogno di un po' un po' di cure e dopo di che partiamo con tutto il resto delle tre piature e andremo avanti a vendere rispico mare dopo vedremo se sarà il caso di acquistare qualche altro macchinario per velocizzare un po' il lavoro nel frattempo qui abbiamo un rimorchio pieno c'era Fabio adeguato proprio ben nominato col Valzelli dunque abbiamo riempito sia i silos fianco al campo di Arone che anche il silo nord e abbiamo due rimorchi pieni ancora un piccolo pezzo sul campo da treviare perciò andiamo direttamente da Bureau che dovrebbe essere a casa e vediamo un attimo se se c'è riscarichiamo riscarichiamo lì tutto quanto non hanno un prezzo elevatissimo siamo intorno aspetta che c'era da girare giù di qua siamo intorno ai 300 380 euro per mille litri però a livello di quantitativo siamo veramente altissimo adesso qua abbiamo anche Fabio Fabio non è mai stato da debito comunque ti avviso l'e1 è un po' così così quindi insomma non sta aver paura importante ti stai sempre sentato sul trattore ecco neanche mi muovo se ti casca qualcosa per terra alzi per terra non sta dar cucciarde però metti il piede va bene anche o metti il piede sopra così smorvina ecco vediamo oggi ci vai però anche a Bureau di anche che dica di tirare via sti alberi perché lei è racchiuso in mezzo agli alberi così la gente non lo vede e dobbiamo che proponga il mister soccata qua adesso 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 faccio fare quasi da girare eh si tranquillo grazie il trattore c'è la macchina anche oh ma guarda marchino è arrivato c'è questa cosa nera è lunga un altro rimorchione e ora qua ciao marchino t'ho posto ciao ciao mo mo sempre contento che bel ragazzotto che abbiamo qua tutto bene si si t'ho posto posso venuto a portarti le carote ah molto bene fanno bene la pelle gli occhi guarda guarda che ma che belle guarda ne abbiamo due milioni e mezzo di litri forse un po' troppe per me hai detto che volevi tante carote che ti servino tante carote quantitativo un po' spropositato alla mia richiesta però allora facciamo facciamo metà e dopo l'altra metà facciamo tra una settimana così hai tempo di processare un po' tutto il prodotto si magari cerco altri come si dice altri acquirenti a proposito a proposito di acquirenti avevo pensato aspetta che spiego il trattore che consuma anzi aspetta che sposto che così scarichi anche Fabio qua abbiamo un altro ragazzotto qui e cioè e porto la gente nuova io guarda che che bello pettinato che è con sto trattorrone vedi vedi lui è già intelligente che scarica sul lato senza beccarla tettoia no come vuol dire che è un po' così ma com'è che si chiama questo ragazzo Fabio Fabio si chiama e vado a salutare e vai si un saluto ciao ma che bel ragazzo mi ha salutato beh mi stavi dicendo stavo stavo dicendo a proposito di clienti eccetera Fabio tu tanto puoi andare così ma no ma lascio qua ma se no sta fermo il macchinario sul campo dopo devo farti pagare di più ma si ma fa lo stesso no va via e dopo torna e beh l'importante è che ritorni e ascoltami qua io vedo dal distante questo tuo posto qui è troppo racchiuso dagli alberi ma no ma sono belli da vedere sono belli lunghi alti grossi si ma ne puoi tenere qualcuno per fare ombra ma uno arriva da distante dalla strada no vieni e vede solo vede solo alberi eh ti ho detto sono belli lunghi alti si però uno non vede la tua palestra tutte le tue attività di vendita al negozietto e perdi clienti così ma no ascoltami 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 guarda ho un ragazzo muscolosissimo lui fa il boscaiolo petto nudo cioè mutande e motosega ma motosega quelle belle lunghe però lui viene lui viene qui ti lasci guarda lasci due tre alberelli giusto per fare un po' di ombra per fare un po' di abbellimento lui viene qui nel giro di una giornata due ti pulisci tutto quanto e secondo me avrai anche più clienti allora facciamo una cosa di questo genere ti do io un incarico eh poche parole allora girati un secondo no no eh no 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 vedi questo appezzamento si eh questo qua lo compro faccio tutti alberi no no così poi vedo capisco se è un bel ragazzo quando tagliare gli alberi bisogna cominciare da qui insomma prima di prenderti qua perché se no dopo si ma sai quanti alberi si possono piantare quante ore lo vedo lì sudare con la cetta che taglia la legna eh ma il pulizioto non vuole che si disturbi il paesaggio beh quindi cosa vorresti fare mandarmi questo ragazzone qua ah questo ragazzone qua lui con i suoi i tretti ripulisce un po' la zona anche perché mi serve un po' di legna di cipato per il biogas però io direi di fare magari che ne so la parte davanti qui la parte davanti che è quella che si vede più dalla strada principale ti lascio quelli dietro questi qua davanti dici questi qua li lasci questi e i pezzettini qua dietro li lasciamo e davanti qua deforestiamo tutto un po' più open space un po' più open space mi piace questa parola stai diventando bello bello colto eh sono una persona informata c'è che guardi le notizie su internet eh no è telegiornale ah anche io guardo telegiornale ah comunque un po' più open space uno spazio più aperto dove poter passare con più facilità essere visti essere visti beh mettiamo una panchina dai mettiamo una panchina vabbè dai vado avanti che ti porto il resto delle carote si mandami pure questo racconto ma si dice si guadagna qualcosa o c'è solo da spendere soldi no no al massimo non spendi niente eh mai che vada produrrai 4-5 mila euro allora si dai mandalo subito eh adesso vedo perché sta facendo altri lavori dopo se magari vuole essere ripagato in un'altra maniera ah lì chiedi a lui potrebbe essere si può accordarsi va bene dopo ti accordi con lui senza problemi va bene vado vado che ho da fare qua del lavoro da fare ciao miro vabbè dunque chiamiamo subito eh mister soccata e innanzitutto chiediamo se è finito il campo 74 e dopo c'è anche bisogna ragazzi servono serve cipato più biogas ci può fare la caldaia brucia in continuo e bisogna di sbuscare eh tutto quanto eh finché il puliziotto non si accorge dopo quando si accorge sarà quel che sarà è importante alimentare la la caldaia non te l'ho visto eh ah cioè come che biuro dopo che non se che non se eh eh beh chiamiamo subito che che così allora vediamo numero numero ho messo l'attacca sulle porte eh ho messo l'attacca sulle porte di non scendere bom 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 vediamo chiamarlo subito pronto pronto mister soccata buongiorno buongiorno sono sono Marco sono Marco ah ascolta hai finito hai finito il campo 74 eh allora ho un altro sono già dall'altra parte eh sono già dall'altra parte eh ma perché avrei un'urgenza eh vicino al campo 68 69 69 lì c'è un po' ho un cliente che ha bisogno di ripulire tutta una zona di foresta entro quando entro quando il primo possibile perché lui ha un negozio alimentare di cose così e a tutti gli alberi davanti che gli oscurano il negozio serve assolutamente che sia più visibile eh quando ho finito il lavoro qua se no devo spostare tutte le macchine mi costa di più spostarle che resto vabbè dai cerca di fare più fretta che puoi sono pini sono piatti simili o sono qualcosa tutti i pini niente di difficile puoi andare lì con la ponza e a bene 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 lavoro veloce non c'è tanta roba però ecco aveva bisogno di ripulire un attimo sì sì un attimo la zona va bene bene ciao ciao vai bravo bambino sempre sta e vai allora Matti dai che manca l'ultimo pescettino accelera tutto il macchinario bisogna bene e dopo proseguiamo che svuotiamo anche tutto il silo nord e finiamo il campo svuotiamo tutto il silo nord mentre il silo mite che è quello che abbiamo qui vicino lo manteniamo lo scarichiamo tra un paio di giorni in modo da dar tempo a biuro di processare tutto tutto il materiale è arrivato faccio che incrociamo Fabio arriva dunque dalla raccolta e vendita delle carote siamo passati a trebiettura dell'orzo al campo 42 come vedete stiamo facendo molta paglia in gran parte andremo a imballarla ecco Matti e Matti mi raccomando imballare paglia non fieno bisogna le ammorteremo a caser se tra i bierba è un problema il resto il resto porteremo alla caldaia del biogas detto questo per questa puntata è tutto ci vedremo nella prossima dove vedremo se mister Soccata va a tagliare gli alberi da biuro perciò mi raccomando tenetemi pronti ringraziamo loro e i bioperai abbiamo Buldir Edo Fabio ciao a tutti mister Soccata è impegnata e poi abbiamo Matti ciao Nico ciao a tutti Enrico ciao vediamo se mister Soccata c'è non c'è bene salutiamo tutti e ah Mattino ti saluti caso va bene casi no 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 e ciao a tutti e alla prossima ciao ciao Matti guarda che ti hai perso il dubai qua per strada sul campo torna in drio guarda te sei una bionier per tutto ma ti parlo ormai guarda guarda che roba guarda uno uno ogni dieci metri un bionier ma stai attento guarda che non ti perdi roba per strada ma se non guarda 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 è rotto in metri capito rotto in metri dicem mario e decci matti che rotto in metri sacramente